Cari ascoltatori di Radio Puginion Air, oggi vi portiamo una notizia, ogni tanto una bella notizia, divertente, che ha scatenato risate e riflessioni. Il ritorno esilerante di Maurizio Crozza con la sua imitazione di Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, fuori controllo, un po' smemorato. Il comico genovese Maurizio Crozza, non stiamo parlando di Beppe Grillo, ha dipinto Biden come un uomo ormai preda di delirio senile, facendolo apparire in una situazione al limite del surreale. Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, su nove, Crozza si è divertito a vestire oltre i panni, abbiamo visto in un'altra anticipazione di Sinner e di Mara Venier, che legge un altro comunicato un po' diverso rispetto a quello che ha letto a domenica in domenica scorsa. Dicevo Crozza si è divertito a vestire i panni di Biden platealmente rimbambito, offrendo uno spettacolo irresistibilmente comico, seppur con una vena di amarezza per chi riflette sullo stato di salute di una figura così importante. Nello sketch che ha anticipato la puntata che ci sarà venerdì 23 febbraio, abbiamo fatto anche noi uno speciale con tutte le anticipazioni della puntata, potete andare ad ascoltarlo qui sul mio canale YouTube che ospita la mia radio, ma anche la mia musica che vi invito ad ascoltare, vi invito ad iscrivervi e anche a commentare questo video, questa puntata così come le altre e continuare dunque il dibattito nei commenti del video. Dicevamo, in questo sketch che anticipa la puntata del 23 febbraio, Biden crozza, sembra completamente disorientato, confonde i nomi dei suoi interlocutori internazionali più importanti, passando dicendo che il presidente di Israele è Michael Gorbachev, e poi passando per Michael Jordan con una leggerezza disarmante. Le sue parole sono un mosaico di pensieri confusi e frammentati, che ricordano la realtà distorta di un uomo alle prese con i suoi ricordi sbiaditi. Dunque il presidente di Israele, poi Michael Jordan, prima Gorbachev, e poi diventa anche colui al quale hanno sparato, ma in realtà sta parlando di Kennedy, e colui che è andato sulla Luna, anzi no, forse su Marte. Insomma, davvero uno sketch molto molto divertente che fa vedere questo Biden, che perde ulteriormente la memoria nel tentativo di ricostruire frammenti di memoria, confondendo eventi storici e anche film di fantascienza. Parla di sparatorie dalla Luna a Dallas, di avventure su Marte, mescolando fatti reali e immaginari in un turbine di parole senza senso apparente. Ma è proprio questa confusione che rende l'imitazione così irresistibilmente divertente, e allo stesso tempo un po' inquietante, se pensiamo che forse potrebbe davvero essere così nella realtà. La situazione raggiunge l'apice del grottesco quando Biden crozza, si ritrova a maneggiare una valigetta con i codici per lo sgancio della bomba nucleare, che, infatti, con un'innocenza quasi infantile, apre la valigetta e mostra un enorme bottone rosso, simbolo del potere distruttivo che si nasconde dietro le decisioni dei leader mondiali. Ma il momento diventa ancora più surreale quando Biden vacilla e ammette di aver dimenticato di prendere le pillole, un dettaglio che aggiunge un tocco di tragicomico alla situazione. In questo sketch Crozza ci offre una satira tagliente e spietata della politica contemporanea, mettendo in luce le fragilità e le contraddizioni dei potenti del mondo. Ma ciò che rende questa imitazione così efficace è la sua capacità di farci ridere di fronte a una realtà che potrebbe essere più vicina di quanto vogliamo ammettere. Restate sintonizzati su Radio Puginion Air per ulteriori aggiornamenti su questo e altri eventi che animano il mondo dell'arte, della politica e dell'intrattenimento. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci per nuove fantastiche avventure radiofoniche qui a Radio Puginion Air.